Dimezzare le liste d'attesa, abbattere la sistematica migrazione in Emilia-Romagna della mobilità passiva, creare corsie preferenziali per le urgenze minori al pronto soccorso, investire sulla diagnostica, organizzare prestazioni sempre più di prossimità con ospedali e case di comunità. Sono questi i cardini portanti della bozza del piano socio-sanitario supervisionato dall'assessore Filippo Saltamartini che ha tracciato le linee guida del secondo atto più importante della giunta a Quaroli dopo la riforma sanitaria che si sta plasmando in questo 2023. Piano socio-sanitario che nei prossimi due mesi diventerà suscettibile di modifiche e aggiustamenti che passeranno per una serie di confronti con amministrazioni, sindacati e ordini professionali. Attendendo che il testo di 200 pagine arrivi nel Consiglio regionale previsto nel mese di giugno, il masterplan dei macro-obiettivi è già tracciato. Le linee guida prevedono innanzitutto la sparizione del CUP unico regionale che sarà spacchettato in cinque centri di prenotazione provinciali. Una precondizione per ridurre gli spostamenti per visite e prestazioni mediche. Un'altra novità sarebbe la creazione di liste di garanzia per recuperare le prestazioni cercando di dimezzare i tempi delle liste d'attesa delle visite specialistiche. Un piano che prevede come gli utenti verrebbero inseriti in categorie specifiche con tempi di risposta di 5, 10 o 15 giorni a seconda della tipologia e della portata delle urgenze. Il piano cerca anche di riorganizzare gli infiniti tempi d'attesa al pronto soccorso con una serie di misure specifiche per i codici meno gravi. Una riorganizzazione in corsie preferenziali che necessita però anche di un assist dal governo centrale per agevolare ulteriori assunzioni. Grazie. Grazie.